Nonostante il diniego a concedere la sala dell'ente porto ai consiglieri regionali del Partito Democratico, Pepe Paolucci, si è svolto regolarmente, ma in una location molto più caratteristica, l'incontro con gli operatori del porto di Giulianova. Sì, perché il nostro intento era solo quello di parlare di pesca, dei problemi del porto di Giulianova e come arrivare a qualche soluzione. Purtroppo per i litigi, il caos che c'è in consiglio regionale, soprattutto all'interno della giunta regionale, non c'è stato concesso la sala dell'ente porto. Ovviamente abbiamo trovato tanta solidarietà a Giulianova e sul porto, tra i pescatori, i caliscendisti, il circolo nautico, tanti si sono messi a disposizione per ospitare questa riunione, questa assemblea con la stampa e con gli operatori della pesca per parlare del porto di Giulianova. L'obiettivo è stato quello di parlare dei problemi che affliggono oramai da tempo lo scalo giuliese, come ad esempio il completamento della diga esterna Nord, ma anche altri numerosi interventi ferme ai box. Qui ci sono oltre 1.200.000 euro di opere per quanto riguarda i servizi igienici, le tettoie per i pescatori, una serie di interventi finanziati dal Fondo Europeo per la Pesca, dalla nostra giunta regionale, che sono fermi da anni. Noi rischiamo di perdere questi fondi e entro settembre devono essere realizzate almeno il 50% delle opere per poi essere terminate nel 2023. Nulla di tutto questo si vede all'orizzonte, siamo assolutamente preoccupati e per questa ragione abbiamo presentato un'interrogazione al Governatore Marsilio per sapere i tempi di realizzazione di queste opere già finanziate e già progettate. Consigliere Paolucci, esiste il rischio concreto di perdere i fondi e creare un ulteriore danno al porto di Giulianova? Come al solito, qui insieme al collega Pepe, Dino Pepe, sottolineiamo ancora una volta non solo l'assenza di Marsilio ma l'incapacità a gestire risorse che erano state persino ereditate. Siamo di nuovo di fronte a una incapacità a governare, a utilizzare le risorse e a non investire su un'infrastruttura così importante. Un porto che rappresenta moltissimo per la provincia di Teramo e non solo? Non solo per la provincia di Teramo, per tutta la nostra regione siamo di fronte a un Governo regionale che è assente sui grandi temi, sulle infrastrutture, sul turismo, sulle politiche industriali, sullo sviluppo, sul lavoro, sull'acqua, sull'agricoltura. È tempo di costruire un'alternativa ovviamente a questo Governo regionale così lento all'inizio e così assente purtroppo oggi.